Provate a immaginare un tizio che come titolo di studio ha solo la terza elementare, che progetta un sommergibile e lo costruisce nel lavoratore di casa sua. E con questo mezzo raggiunge il punto più profondo del lago di Covo, a quota 412 metri. Ebbene direte voi, quest'uomo non è mai esistito. E invece sì. E quell'uomo era Pietro Vassena, geniale inventore, nato in un'umile famiglia di Malgrate nel 1897. A lui è dedicato l'ultimo video realizzato dal giornalista lecchese Stefano Bolotta, pubblicato sul suo canale YouTube. Una storia vincente che suscita ancora oggi ispirazione e spiega Bolotta. Ho condotto una lunga ricerca storica fra libri, testimonianze e materiale sul web, raccogliendo, grazie al contributo della famiglia Vassena e del collega Marco Corti, fotografie e video d'epoca semplicemente meravigliosi. Mi piace pensare, continua, che anche i giovani possano guardarlo e venire a conoscenza di questa storia fantastica. Breve carriera scolastica, ma enorme ingegno, Vassena è stato l'autore di svariate invenzioni e brevetti, come gli Schivas, un misto tra sci e canoa, per camminare sulle acque, così come recitava lo slogan promozionale. Ma la sua impresa più famosa è stata la costruzione del sommergibile C3, con il quale, dopo numerosi collaudi, il 12 marzo 1948 fece la storia. Il C3 scende alla quota record di 412 metri, qualcosa che è inimmaginabile per l'epoca. Pensate che i sommergibili di quel periodo possono raggiungere una profondità massima di 100 metri. La notizia esce fuori dai confini di Lecco, quel tanto che basta, eh. Qualche giorno più tardi Vassena fa il suo ritorno in città e lo fa da re di Lecco. Una folla clamante lo porta, infatti, in spalla, da trionfatore fino al municipio. Insomma, un uomo comune che, grazie a passione e competenza e un pizzico di follia, ha compiuto gesta preclusi ai più ed è entrato nella leggenda. Come finisce la storia? Lo scoprirete guardando il documentario su YouTube.